I miglioramenti, tutti i miglioramenti, sia sportivi che intellettuali, sono per salto di qualità. Ossia, non è una linea che va in su, in diagonale. Il cervello non impara in quel modo. Si impara praticando una cosa o studiando una cosa e sembra che non ci sono miglioramenti. Però io insisto, e quello è come se fosse la parte dell'escalino dove io appoggio il piede. Quello sono la quantità di ripetizione, la quantità di studio, la quantità di volte. A un certo momento va in alto e c'è un miglioramento, chiaro, c'è un salto di qualità. È come se io metto l'acqua a riscaldare. L'acqua fredda, poi l'acqua tiepida, poi l'acqua calda, poi ancora più calda. Tanta gradi, novanta gradi, sempre acqua. Sempre più calda, ma sempre acqua. A cento gradi c'è un cambio di qualità. Vapore, non è più acqua. Ma non è acqua, si chiama vapore. Si è trasformato in un'altra cosa. Questo è il salto di qualità.